Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video di Minecraft. Shinigami Alpha fa anche video su Minecraft. Date una medaglia a questo canale. Iniziamo. No, ne facciamo uno nuovo perché noi siamo dei pro. E lo chiamiamo... Shinigami Alpha. Siamo noi. Perfetto. Va bene, creiamo un nuovo mondo. Vediamo l'inizio come sarà. Vediamo un po'. Allora. 20 ore dopo. Eccoci qua. Ha allagato un po'. Oh, ma che bel posto. Ci sono anche i funghi, guarda. Che bell'inizio. Ecco, ci facciamo la casetta. Vabbè, senza... Cosa è sto cosa? Vabbè, lasciamo. Allora, sto facendo un video. Non si maialisce. Allora, l'idea di prenderci subito della legna. C'è un gran casino per colpa di questi maiali. Maiali. Allora. C'è un certo della legna. Adesso ci costruiamo la tavola di lavoro. Il tavolo di lavoro. E in seguito la casetta. Fatto. Ma no, la merda non serve. Perfetto. Il fungo simpice. No, non ce lo posso mangiare. No, no. Un maiale così ci prendiamo già delle probiste giusto per sicurezza. È caduta solo. Io non ho fatto niente. Perfetto. Iniziamo ad andare a tagliare un po' gli altri. Siamo dei perfetti boscaioli. Oh, ok. Perfetto. Ah, ma sono alberi diversi. Perché non mi metto insieme. Sarà una casa multicolore. Bellissima proprio. Ok. Ah, no. C'è ancora un altro. Stavo smettendo di fare. Non ci arrivo. Ti pareva che non si incastrava? Colpo di fortuna. Stavo smettendo di fare. Eccoci qua. L'abbiamo preso. Allora. Siamo creatoci. No, vabbè. Failato. Failato. Cos'è? Oddio. Ma cosa sta succedendo? Io non ho fatto niente. Non è neanche notte. Corriamo. Ce n'è via. Qui si attaccano gli zombie. Alla cavolo. Completamente. Maialino, vieni qua. Fammi compagnia. Vieni qua. Guarda che non faccio niente. Vieni qua, maialino. Mi sto dando solo delle carette un po' troppo forti. Ok. Perfetto. D'acqua qui che ci siamo presi pure la pappa. Sì, per ora la casa ce l'ha montata. Che bel monta. Ce la facciamo qua. Una bellissima casetta. Trasformiamo anche il legno di quercia. Di quercia. La facciamo rialzata. Così non ci prendono i mostri durante la notte. E' piccolina come caso. Noi ci abbiamo una casa multicolore. Anzi, multilegniamo il nuovo parquet. Ok. Questa qua è la nostra casa iniziale. Ma ci serve dell'altra legna. Noi ci abbiamo il bosco a fianco. Quindi siamo a posto completamente. Ciao i maialini. Mi rispondono pure. Sono separati. C'è comunque un po' di compagnia. Qui diamo anche da mangiare. Prendiamo il legno. Andiamo con questo qua che forse si fa il primo. Appunto. Mi sono perso. Visto che mo' ci vuole abbastanza tempo per creare la casa. Prendere da mangiare. C'è maialino da compagnia. Direi di... Cioè tipo... Di dirci... Di vederci dopo. Con la casa fatta. A dopo. Ed eccoci tornati qui. Mi sono creata per la mia bella casetta. Cioè guarda qua. Pure il forno. Vabbè si muove sta grande il vetro. Grazie. Ok. Piano mio. Sì vabbè. La cittadina per tanto non è che ci dobbiamo fare tanto. Ho... Ho preso. Delle frecce. Allora. L'arco e le frecce non me le sono prodotto io. Vabbè le ho ovviamente no. Perché le ho avute. Perché le ho chiuso un tizio. Uno scheletro. Mi veniva. Un po' non mi bisogna sfruttare. Ok. Va bene. Va benissimo. Questo è qua dentro. Rimettiamo quello che non ci serve. Prendiamo. Vabbè. L'unica arpa che abbiamo è questa. Quindi. Prendiamo. C'è qualcuno. C'è uno zoom. Quella qua. Caccia notturna ne facciamo. Il vetro ha finito. Il legno non ce lo prendiamo dopo il legno. Allora. Ecco. Cosa c'è? C'è una zappa. Non ce la dà la zappa. No. Mannaggia. Non ce la dà la zappa. Allora. Vediamo se c'è un'altra frecce che ho lanciato. Allora. No. Meglio di no. Ci dobbiamo anche produrre le frecce. Quindi se ne sa qua. La buttiamo. Aia. 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 No. Non ti ho fatto niente da niente. No. È stato l'orto. Dove un po' di non morire. Un po' di non morire. Un po' di non morire. Spero che ci dava della corda. Sì. Creavo. Un altro arco. Sì. Questa cosa sta finendo. Un pozzo di là. No. No. Di nuovo. Questa vuoi dalla mia vita. Questa vuoi dalla mia vita. Questa vuoi dalla mia vita. Ok. C'è. La struttura che rinasco. Non è hardcore. È una associazione del delinquere quella. Fammi andare a riprendere la mia roba. Questa è il ragno è morto. Se non è morto cos'è? Kulk. Il ragnetto che vi vedete in casa con l'Ul. Eh. Cos'è? Metà caso? E' cipura tipo. Vediamoci la metà. Non ci potevo fare niente. Siamo morti. Ho failato. Ok. C'ho un ragnetto. Non facciamolo. C'ho un'armatura quella. Non c'è più freccia. Via di qui! Fuga rapida! Fuga rapida! Oh. Appena mi ha dato una freccia. Peggio di Matrix. Vai! Fuga rapida! Ok. Spero che ci hanno... Troppo qui. No. No. Non ci hanno perso. Non ci hanno perso. No. Corri. 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 Ah! Vieni qui! Via, 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 via. Via! Non ci voglio! Ho avuto il ragno nelle caverne, nelle caverne. Vieni via! C'è? Vieni a casa! Ci vogliono male! Ci odiano. Oh! Allora no! Allora no! Almeno se ne è stata la forza. Vada qua! Tutta la mia casinetta è fantastico! Mi stai a vedere qui! Vieni via! Ma non è possibile! E riniti a prenderci la casinetta. Ha già esplosato una volta. Sembra per lo stesso motivo. Non ho più legna! Come me la costruisco ora? Ci sarà qualcosa qua dentro il caso? Dovebbe essere ancora della legna. Mi sembra. Ok. Mai andare in giro di notte. Come faccio a ricostruire tutto qua sotto? Devo rifare le fondamenti. Siamo pure costruzioni. E' giro di noi. Gli shimigami tutto fa. E' giro. Ok. L'importante è coprire quello che ci interessa. Poi da... Ricrescerò l'erro. Dai. Ricresce da sull'occhio. Noi non ci interessa. Noi non ci interessa. Ma vaffaculo. Noi non ci interessa.